Mi dovrete aiutare per questo caso. Adesso, mi faccio il numero 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8. E' facile. Vai. 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3... Students make me this, dig часть rio nice. Do. 1,2, 3... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti